Dal 3 gennaio 2023 ad oggi sono passati quasi 16 mesi e la strada in località Sella Mandrazzi è ancora interrotta dalla frana cosata dal maltempo a inizio anno 2023. Frana ha attenzionato più volte all'ANAS e agli organi competenti dal sindaco di Novare di Sicilia Gino Bertolami che ha chiesto in vari modi il ripristino per i disagi cosati cittadini che per spostarsi nella zona ionica devono percorrere quasi 150 km in più. Il sindaco per attirare l'attenzione degli organi competenti e velocizzare il ripristino della strada a giovedì ha iniziato lo sciopero della fame e dal balcone della sua stanza comunale in compagnia della sua amministrazione e del sindaco di Fondachelli Fantina Angelo Pafumi ha denunciato davanti a circa 400 cittadini il silenzio dell'ANAS spiegando tutto quello che ha chiesto agli organi competenti in questi mesi di chiusura al traffico. Sindaco l'ANAS continua a non rispondere, lei ha deciso di fare anche lo sciopero della fame? Sì, guarda, io sono sempre per risolvere i problemi in modo istituzionale, però quando non è più possibile sicuramente devi fare un'azione un po' particolare, un po' eclatante. Allora ho deciso di fare lo sciopero della fame per quanto riguarda la strada statale al km 31, quella che è nel territorio di Francavilla di Sicilia e che rende difficile, lo rende impossibile arrivare nella zona ionica, diciamo Francavilla, Giardini, Catania, se non fai un grandissimo giro scendendo fino a Messina e prendere l'autostrada verso Catania. Con un aumento, aumenti più di 150 km, ecco tutti gli ammalati che debbono andare all'ospedale Sirina di Taormina, debbono aumentare di 150 km il percorso, è una cosa assurda. Qui mi pare che le aree interne se li dimenticano e allora non è possibile continuare così. E un sindaco secondo me ha l'obbligo e il dovere, quando le cose vanno male, di essere presente e di ricorrere a qualsiasi mezzo lecito e pacifico. Come sto facendo io? Perché tengo a sottolineare che questo è un mezzo pacifico di protesta, sarà pure un mezzo forte, però se un sindaco non ha altre possibilità deve ricorrere a questi mezzi. Che cosa si aspetta da questa manifestazione di oggi? Guarda, quello che noi chiediamo all'ANAS è che inizino subito i lavori e che i lavori non vengono fatti con 3-4 operai, qui deve essere l'ANAS a controllare le ditte che dovranno fare questi lavori, ma debbono lavorare H24 o quantomeno due turni di lavoro perché con 3-4 operai andremo alle calende greche, non ci sbrigheremo mai. E poi, dopo che iniziano i lavori, controllare praticamente se è possibile, anche mentre ci sono i lavori, se è possibile rispettando le norme di sicurezza, aprire una corsia, anche regolamentata da un semaforo. Queste sono le cose che noi chiediamo immediatamente. Le attività commerciali, qualcuno è venuto e mi ha detto, sindaco, noi consegneremo le licenze, non possiamo più andare avanti, perché Novara, come ormai ben si sa, è un paese dove vengono tantissimi visitatori. E la maggior parte, guarda caso, vengono dalla zona del Catanese, quindi tanta gente non viene più e se ne risente il commercio, ne risente tutto l'indotto. E quindi è una cosa importantissima questa strada, non deve essere sottovalutata e non perché siamo un piccolo borgo ci debbono sottovalutare. E non solo, non è solo Novara che ne risente tanto. Ne risente tanto anche Fondachelli-Fantina. Tanta gente si spostava ogni mattina per andare a lavorare nella zona del Catanese. Come ne risentono tanti gli allevatori che hanno degli armenti nella zona di Francavilla, di Catania. Ne risentono tanti i pendolari, quelli che vanno a lavorare in quelle zone. E' una situazione disastrosa, sinceramente. E io non posso tollerare. Quindi è obbligo di un sindaco cercare tutti i mezzi per risistemare queste cose. Speriamo di riuscire. Fino a quando durerà lo sciopero della fame? E' chiaro che lo sciopero della fame, io premetto che sono controllato da un medico. E continuerà fino a quando non avrò notizie da parte dell'ANAS, perché le notizie me le deve dare in modo ufficiale l'ANAS. E soprattutto voglio vedere che tipo di intervento faranno e se si atterranno a queste nostre richieste. In quel momento io smetterò di fare lo sciopero della fame, altrimenti continuerò ad oltranza. Fino a quando magari il medico mi dirà basta, non lo so questo qua. Però ho in mia intenzione continuare se non saranno accettate queste nostre richieste.